Il pubblico non scopi di entusiasmo, io non sono più Medeo Martini. Bravo, sei un leone. Che ti sembra? Non c'è male, l'uomo è tuo, ricordati di quello che ti ho insegnato. Mi sono fai gus che provano a vedere due uomini che si fanno la faccia come un canci a fuori e ripugni. Oh, perché non te ne intendi? È emozionantissimo. No, benissimo, ma per cosa mia. Ah, allora.